Bentornati a bordo Corsari, oggi capitolo 3 della guida su Sea of Thieves. Trattiamo un po' le missioni, quindi le fazioni e le meccaniche relative. Grazie sempre enormemente per il sostegno che mi state dando, lo apprezzo davvero tantissimo e vi invito se non l'avete già fatto a iscrivervi al canale e suonare la campanella per non perdervi nessuna parte di questa fantastica guida. Trovate anche il link alla playlist in descrizione come al solito. Non ci incischiamo che il mare ci aspetta. Pronti? Andiamo! Come abbiamo detto l'ultima volta, in ogni missione di gioco sarete chiamati per il 50% del tempo a navigare, ma l'altro 50%? Beh, ovviamente lo trascorrerete in missione a caccia di tesori, scheletri e così via, verso quello che solo apparentemente potrebbe rappresentare l'endgame, ovvero il titolo di pirata leggendario. All'inizio della partita ci troveremo su uno degli avamposti e potremo recarci subito da uno degli emissari delle tre fazioni principali, cercatori d'oro, all'interno delle tende e con icona la chiave gialla, ordine delle anime, sempre nei pressi degli empori e con l'icona di un occhio viola, e alleanza del mercante, situati sui pontili e che hanno per icona un mondo azzurro. Da ciascuno di loro potremo comprare, con monete d'oro, varie tipologie di missioni, encomi e oggetti cosmetici a seconda del livello raggiunto. Per ciascuna fazione avrete un livello di reputazione da 1 a 75, che attualmente è il level cap, indicato nella vostra scheda apposita, che si alzerà man mano che consegnerete agli emissari le merci specifiche. E sì, esistono anche altre tre fazioni, ma le tratteremo a fine video per non farvi fare confusione. Dicevamo sempre dall'emissario potete ogni 5 livelli prendere un encomio, che sebbene alzerà il costo delle missioni, le renderà più complesse e più remunerative. Le ricompense cosmetiche sono sbloccabili in base al vostro livello di reputazione, chiaramente, ma non troverete solo quelle. Avrete la possibilità di comprare le bandiere di ciascuna fazione, al prezzo una tantum di 20.000 monete d'oro, che vi consentiranno di diventare loro emissari e di velocizzare anche di parecchio il livellamento. Vediamo come funzionano prima di entrare nei dettagli delle missioni, quindi. Una volta acquistata la bandiera dell'emissario potrete, su un tavolino nei pressi del vendor stesso, votare per alzare la bandiera, ovvero assumere il ruolo di emissario, finché non la riconsegnerete o non verrete affondati. Quando la maggioranza della ciurma ha votato in favore, una piccola imbarcazione comparirà sul tavolino, rivelando a voi, ma anche a tutti gli altri che passeranno sui tavolini di uno qualsiasi degli avamposti quanti emissari ci sono per quella fazione nella vostra partita. Tenete da parte questa informazione apparentemente inutile, tornerà comoda più avanti. Alzata la bandiera, avrete in basso a sinistra un indicatore con il simbolo della fazione, 5 barrette, di cui la prima illuminata, che rappresentano il livello della bandiera, e un anello esterno. Quando recupererete merci idonee alla vostra fazione, ma non solo, vi lascio in sovraimpressione l'elenco completo delle azioni valide, l'anello esterno man mano si riempirà e al giro completo alzerà di 1 il livello della vostra bandiera. Più il vostro livello della bandiera sarà alto, fino al massimo di 5, più ricaverete oro e reputazione con la fazione quando venderete le specifiche merci agli avamposti. Vi lascio ora indicato a video una tabella riassuntiva di quali sono le percentuali bonus a seconda del livello. Fatene buon uso. Raggiunto il livello 5, avrete accesso alle missioni speciali, interagendo con il relativo emissario all'avamposto, che saranno parecchio fruttuose. Ricordatevi sempre, prima di concludere la sessione di gioco, di abbassare la bandiera al solito tavolino dell'emissario, per prendervi altra esperienza e le monete d'oro bonus. Ecco, non fate come quegli scappati di casa che dopo tre ore di partita, sfatti e stropicciati dalla navigazione, danno fuoco alla nave con il classico funerale vichingo senza abbassare la bandiera di livello 5, mi raccomando eh. Passiamo dunque a vedere un po' tutti i tipi di missione che potremo trovare in game. Con i cercatori d'oro avremo due tipologie di missioni, le ricerche dei tesori e le ripte. Le prime possono essere delle banali mappe di isole specifiche e una volta raggiunte, sfruttando rocce, piante, particolari e vari dettagli sulla mappa, orientarvi e recarvi nei punti indicati con la X, scavare, disseppellire i tesori di varia natura e così via. Sempre le ricerche dei tesori possono fornire delle pergamene con degli indovinelli, ognuno dei quali avrà vari step. Il primo sarà visibile e vi fornirà il nome dell'isola, che una volta raggiunta svelerà lo step successivo, il quale solitamente citerà un punto particolare in una zona dell'isola con un'azione da compiere per progredire, quale alzare la lanterna, suonare uno strumento e così via, per sbloccare gli step successivi e arrivare a quello finale, dove verrà indicato un ennesimo punto di interesse, una direzione e un numero di passi da compiere per arrivare al punto esatto dove è sepolto il tesoro. Per gli indovinelli può venirvi in soccorso il sito di RareTiff e la relativa app che avevo citato nel video guida precedente, andate a recuperarlo se non l'avete visto. Grazie a loro potrete filtrare le indicazioni degli indovinelli in modo che siano visibili direttamente sulle mappe di gioco e sì, vi aiuterà un sacco in caso di bisogno. La seconda categoria di missioni dei cercatori d'oro sono le cripte, ottenibili fra le missioni una volta raggiunto il livello 25 con i cercatori d'oro e funzionano in questo modo. Vi verrà fornita una bussola speciale nella ruota delle missioni che alla stregua di un bastone da rabdomante, non avrei mai pensato di dire bastone da rabdomante in una recensione. Ma vabbè, dicevo, alla stregua di un bastone da rabdomante oscillerà verso una direzione, prima in maniera ampia e poi sempre più precisa. Una volta sull'isola l'ago punterà verso l'obiettivo e arrivati sul punto esatto l'ago comincerà a ruotare completamente. Scavando in quel punto riceverete un frammento di mappa. Il frammento di mappa indicherà un'isola, sempre più riconoscibile man mano che troverete tutti gli altri frammenti, sulla quale ci sarà una X dove scavare. Prima di affrontare il finale, tre consigli. 1. Uccidete sempre tutti gli scheletri che fungono da guardiani dei frammenti, perché alcuni, quelli con le bende sugli occhi e altre caratteristiche estetiche solitamente assenti sugli scheletri normali, dropperanno dei tesori. 2. Prima di abbandonare l'isola alla volta di un altro frammento, controllate che non ci siano più frammenti sulla stessa isola, a volte capita. 3. Se state usando le bandiere, ricordate che ogni frammento di mappa che troverete farà alzare il livello della bandiera, quindi anche se avete capito di che isola si tratta, potrete pompare la bandiera trovando tutti i frammenti, anche se non necessari. Una volta capita qual è l'isola con la X, scavate e recuperate il forziere, nel quale troverete una chiave speciale. Ora la scelta. Potete consegnare la chiave ai cercatori d'oro per incassare un premio sicuro, oppure usarla per aprire una cripta piena di tesori. Se scegliete la seconda strada, dovrete recarvi sull'isola che dà il nome alla chiave e, mediante gli indizi posti su di essa, trovare la serratura. Adesso un attimo di attenzione. Una volta inserita la chiave, partirà un evento a tempo. Nella cripta c'è ogni bendiodino, quindi considerando che avete un tempo limitato, puntiamo subito al premio più grosso. Nella stanza ci sono forzieri, monili, montagne d'oro, ma lasciate tutto lì per ora. Appena entrate, cercate subito dei medaglioni. Questi andranno inseriti nel tavolo centrale, il quale, ogni volta che inserirete un medaglione e premerete il pulsante, vi mostrerà un simbolo, partendo dal primo a sinistra. Quel simbolo sarà da posizionare sulla colonna più a sinistra, avvicinandosi ad essa e ruotando il blocco mobile. Stessa cosa col secondo e terzo medaglione, rispettivamente per la seconda e terza colonna da sinistra. L'ultima colonna sarà la somma di tutti i simboli precedenti. Una volta fatto, cliccate il tasto e tadaaa, jackpot! Va detto che basterebbero due medaglioni, perché una volta capiti i primi due simboli, potrete mettere comodamente il quarto simbolo e poi avere il 50% di possibilità per imbroccare al volo quello della terza colonna, per esclusione, fate voi. Una volta portato fuori dalla porta al forziere dei cercatori, tirate fuori più che potete, fino a quando il tempo scadrà, e rimarrete chiusi dentro. In questo frangente, mentre la sala si riempirà d'acqua, approfittatene per arraffare i cumuli d'oro. Assicuratevi di portare fuori dalla porta scorrevoli tesori, altrimenti non avrete più modo di recuperarli. Passiamo all'ordine delle anime, dove ad oggi ci sono qui due tipologie di missioni, i capitani scheletrici e le flotte fantasma. Tranquilli, queste sono semplici, andremo velocissimi. Con i primi dovrete raggiungere una determinata isola indicata sulla pergamena e cercare gli scheletri, ucciderli tutti, compresi i capitani, e recuperare i loro teschi. Aiutatevi nella ricerca con l'audio in game. Quando sarete nei pressi del posto giusto, una musica inquietantissima vi farà da sottofondo. Lì in giro inizieranno a comparire ondate di scheletri che dovrete sterminare. Per la cronaca esistono diversi tipi di scheletri, ognuno con i suoi punti deboli. Oltre a quelli classici, avremo infatti quelli ombra, che solo di notte diventano incorporei e per essere attaccati devono essere prima illuminati alzando la torcia. Ripeto, alzando la torcia. Quelli con le foglie addosso, che vanno tenuti lontani dall'acqua, oppure fioriranno e diventeranno molto più forti, e che riceveranno più danni dai colpi di spada. E quelli dorati, che funzionano in maniera diametralmente opposta a quelli d'erba, quindi vanno portati in acqua per rallentarli e indebolirli, e subiranno più danni invece dalle armi da fuoco. Consiglio per quelli dorati, capitani a parte, basta una bomba incendiaria ben piazzata per liberarsene con le fiamme, anziché impazzire con le armi da fuoco, lanciagli addosso all'acqua, eccetera eccetera. Seconda tipologia delle missioni dell'ordine delle anime sono le flotte fantasma, disponibili solo una volta raggiunto il livello 25 con la fazione. Nei pressi dell'isola indicata ci saranno dei vascelli fantasma, che semplicemente dovrete colpire con tre cannonate per abbatterle. Occasionalmente vedrete dei fantasmi volteggiare sull'acqua e vi indicheranno dei tesori lasciati dalle navi abbattute. Troverete i teschi dei dannati e tesori dell'ordine delle anime di varia natura, ma anche casse di stoccaggio dei dannati contenenti palle di cannone e assi di legno. Dopo svariate ondate partirà la fase finale, dove comparirà la nave fantasma del capitano, che per essere distrutta dovrà essere colpita ben dieci volte. Una volta abbattuta, la missione si concluderà. Un paio di piccole curiosità, ogni tipo di palla di cannone funziona sulle navi fantasma, quindi, oltre a quelle classiche, anche le palle maledette e le palle incatenate, che solitamente hanno altri scopi. Le vedremo nel capitolo del pvp. Seconda curiosità, le casse di stoccaggio dei dannati sono alla stregua di quelle classiche riempibili con ogni tipo di materiale. Tuttavia, possono essere vendute, anche vuote, all'alleanza del mercante per un po' d'oro e reputazione extra, mentre quelle standard non sono vendibili. Concludiamo con l'alleanza del mercante, che invece ha tre missioni. Recupero animali, trasporto merci e ricerca relitti. La prima, se vogliamo la più ostica, vi chiederà di portare una serie di animali con varie caratteristiche o anche di risorse, quali i barilli di polvere da sparo o casse di materiali da riempire, presso un NPC su una determinata isola entro un tempo limite, che potrete controllare usando l'orologio in dotazione. Partiamo dal più facile. I barilli di polvere da sparo si trovano facilmente sui forti degli scheletri, anche non attivi, quindi super easy. Le casse di risorse, che dovrete ritirare preventivamente dall'emissario dell'alleanza del mercante, le dovrete riempire di merci specifiche, quindi con un po' di pit stop fra avamposti e isole farete in fretta. Gli animali sono più ostici, su ciascuna isola ci saranno solo uno o due tipi di animali, e non su forti o avamposti, quindi per sapere su quali andare potrete aiutarvi con la già citata app per la ricerca dei tesori, che nei filtri hanno anche l'opzione per mostrare quale è la fauna locale su ogni singola isola in gioco. Prendete le gabbie per gli animali, rispettivamente pollai, gabbie per i maiali e ceste per i serpenti, e andate sull'isola adatta e impugnando la gabbia opportuna, prendete gli animali tenendo premuto il grilletto destro, stando attenti ai colori richiesti. Facile no? No, perché a parte trovare il colore esatto degli animali, che a volte non riuscirete a trovare per sfiga, nonostante quella tipologia di animale sia nel posto esatto in cui vi trovate, dovrete anche prendervene cura, fino al punto di consegna, perché sì, gli animali possono morire se subiscono danni. Inoltre i serpenti cercheranno di mordervi, quindi dovrete incantarli suonandogli una melodia, così da inibirli temporaneamente. Hanno anche il brutto vizio di sputare per avvelenarvi. Ah sì, i maiali invece tenderanno a morire di fame, quindi quando emetteranno un particolare verso abbastanza disturbante, dovrete nutrirli con una banana, in modo da tenerli in vita fino alla loro consegna. Passiamo al trasporto merci, le cosiddette cargo run, dove sarete chiamate a ritirare piante, sete e bottiglie di rum da un punto A e portarle ad un punto B, indicato sulle casse stesse leggendo la nota di destinazione. Oh, questo è semplice, no? Sbagliato di nuovo! Le merci possono subire dei danni e quindi fruttare meno soldi e meno reputazione, quindi dovrete cercare di trattarle con cura. Le piante andranno bagnate, le stoffe non dovranno essere bagnate e le bottiglie non dovranno danneggiarsi per colpi subiti o per cadute che subirete mentre le trasportate, altrimenti più le merci saranno degradate, meno verrete ricompensati. Come fare quindi? Allora, per caricare con rapidità suggerisco l'arpione, perché specie le piante sono abbastanza problematiche da trasportare in giro. Per stoccarle sulla nave, vivendosela serenamente, suggerisco di mettere le piante in stiva, precedentemente allagata con qualche secchio d'acqua per far sì che le piante non avvizziscano. Le stoffe è meglio metterle sul tavolo delle missioni, in modo che non vengano bagnate da eventuali piogge o da acqua in stiva. Le bottiglie invece è meglio metterle ovunque evitino di prendere i danni, quindi evitate il ponte dove potrebbero venire danneggiate ed eventuali cannonate nemiche. Concludiamo le missioni dei mercanti con i relitti di recentissima aggiunta. Attivata la missione dovrete trovare un relitto di una spedizione cargo, sparita lungo una tratta indicata sul contratto. Lungo tale tratta troverete stormi di gabbiani dove potrete recuperare, oltre a risorse e merci della fazione, anche barili speciali o bottiglie contenenti indizi, quindi occhi aperti mentre siete in mare. Seguendo gli indizi che vi condurranno talvolta in caselle specifiche della mappa, altre volte su determinate isole, troverete ulteriori risorse e indizi, fino a trovare il relitto della spedizione indicata. Nel relitto troverete il capitano, che solitamente avrà con sé un manifesto. Una volta raccolto, la missione si concluderà. Ma, 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 ma c'è un ma. Se andate a guardare nella cabina del capitano del relitto, vedrete una montagna di merci. Come fare ad aprire la cabina? Semplice, se siete stati fortunati, mentre recuperate i vari indizi, vi sarete imbattuti in una chiave speciale, che può essere anch'essa venduta ai mercanti, va detto, da utilizzare sulla porta per poterla aprire e recuperare il grosso del carico. A onor di cronaca, queste missioni possono essere rapidissime, del tipo stormo trovato subito, indizio, chiave, indizio, relitto, fine, oppure molto lunghe se non trovate il relitto o se vi incaponite a cercare la chiave anziché concludere la missione solo con il manifesto. Ve lo dico, il fattore C è determinante, il mio consiglio è, se non trovate la chiave, che so, dopo un quarto d'ora che avete individuato il relitto e fatto tutti gli indizi, che se avete la bandiera dei mercanti alzata contribuiranno a farla salire di rango volta per volta, mollate il colpo. Prendete il manifesto, consegnatelo e ripartite con una nuova missione. Le missioni delle fazioni primarie sono finite, ma, come vi avevo promesso, trattiamo anche le altre tre fazioni per completezza, ovvero la fortuna di Atena, le ossa del mietitore e la chiamata del cacciatore. La fortuna di Atena è la fazione dei pirati leggendari, che vi consentirà di accedere al covo delle leggende pirata presso gli avamposti, con nuovi oggetti cosmetici e nuove missioni. Il level cap della fazione è 20 al momento, e le loro missioni sono sostanzialmente un connubio fra ricerca di forzieri, indovinelli, capitani scheletrici e cargo run. Una volta completate avrete la missione finale, dove dovrete recuperare il leggendario forziere di Atena, che vi darà un bel po' d'oro e reputazione della fazione. Anche qui potete issare bandiere per aiutarvi a livellare, ma attenzione! Gli emissari di Atena sono bersagli facili, proprio perché le missioni sono solitamente lunghe e, a dire il vero, un po' noiose, quindi ogni pirata vi vedrà come un'ottima chance di farmare la reputazione cercando di affondarvi e rubarvi tutto il frutto del vostro durissimo lavoro. Le ossa del mietitore hanno invece come quartier generale il rifugio del mietitore, e, se diventerete suoi emissari alzando la bandiera su quest'isola o presso il teschio ingabbiato in ogni avamposto, sarete visibili da tutte le navi del server. Di contro, ovviamente, per livellare questa fazione non ci saranno oggetti specifici, bensì ogni tesoro andrà bene se consegnato all'NPC al quartier generale, e inoltre vi verrà pagato molto di più rispetto a quanto guadagnereste vendendolo alla fazione classica di appartenenza. Arrivato a livello 5 della bandiera del mietitore, inoltre potrete vedere voi sulla mappa ogni imbarcazione degli emissari, anche a livello 1 della bandiera, quindi come avrete capito potreste andare a caccia con un GPS direttamente a bordo, rendendo il PVP un vero spasso. Usate questa info a vostro vantaggio, se vedete sul vostro server un mietitore a livello 5, un modo saggio per poter giocare tranquilli sarà quello di non issare nessuna bandiera, così da essere fuori dai radar. All'emissario delle ossa del mietitore, inoltre, e questo è utile per tutte le fazioni, potrete consegnare le bandiere di navi affondate, che vi frutteranno un bel po' di oro in reputazione, arrivando anche a cifre davvero notevoli per bandiere di emissari a livello 5. Unico appunto, se consegnate la bandiera della vostra nave affondata vi verrà dato un solo gold. L'ultima fazione secondaria è la chiamata del cacciatore, che riguarda solo caccia e pesca e non ha bandiere né missioni di alcun tipo. I loro NPC saranno dislocati sulle varie chiatte sparse per il mondo di gioco, e potrete consegnare loro qualsiasi tipo di carne o di pesce crudo o cucinato. Ci sono metodi per livellare velocemente in questa fazione, tuttavia non è proprio così avvincente come le altre, sebbene portarla a livello 50 conti come una delle altre fazioni per arrivare al rango di pirata leggendario. In chiusura, eccovi qualche altra nota a margine. Le missioni di ricerca tesori, cripte, capitani scheletrici e cargo run sono disponibili anche nella versione cinerea, bordate di rosso, presso gli emissari e saranno indicate sulla ruota delle missioni con uno sfondo infuocato. Queste missioni ovviamente si svolgeranno sul Devil's Roar, quindi frutteranno il 50% in più di quelle classiche. Però sappiatelo, quell'angolo della mappa non è per niente ospitale ed è sconsigliato ai principianti, benché siano ottimi posti dove le ciurme più schillate possano farmare indisturbate. Tutte le missioni avranno una piccola e concina in basso a destra e saranno del colore della fazione per quelle classiche, delle bottiglie per i messaggi in bottiglia o le pergamene trovate nei barili o delle buste da lettera per gli ordini degli scheletri. Mentre per le missioni degli emissari, una volta raggiunta la bandiera a livello 5, avranno ovviamente una forma di una piccola bandiera. Lo dico perché spesso, dopo lunghe sessioni di gioco avrete talmente tante missioni da perdere di vista quelle principali. Benissimo, spero che la panoramica sulle missioni e sulle bandiere vi sia stata utile. Grazie per avermi seguito fino alla fine del video, invito a lasciare like se il video vi è piaciuto e a iscrivervi per non perdervi nessuno dei miei contenuti che pubblico sul mio canale. Ci rivediamo prossimamente con il capitolo numero 4 che riguarderà il PvP, quindi il combattimento sia per nave che a terra. Quindi non perdetelo, mi raccomando. Rimanete sintonizzati sul canale di New Walker e detto questo, buon divertimento gamers e alla prossima!